Ciao ragazzi, oggi reagiremo al montage, iniziamo subito Allora, intanto è fortissimo Stai distruggendo già tutti, si vede già dall'inizio Tipo, fa questi effetti lag, mamma mia quanto è forte, cioè fa degli edit che non li sbaglia Assurdo Magari alla fine ora metto, tipo, delle parti rallentate, no vabbè Allora, no ma io dino perché poi, comunque sta facendo delle pro playerate, le chiamo pro playerate Delle proate assurde Mamma mia, 200, proprio come non si sa che cose, tipo arrivano Qua credo che fa quella cosa, mamma mia Cioè, ma questo qua In uno vissuno In 3000 fight, chi lo deve battere? 3000 fight Cioè, assurdo Non si può battere, è troppo forte Ti intrappola, ti boxa e poi ti fa 200 Assurdo Non sbaglia gli edit, sbaglia pochissimi, li fa pure velocissimi Non si fa confondere Mamma mia, quanto è forte Ragazzi, lasciate like se vi fa confondere o almeno è fortissimo Fa degli edit assurdi Fa sempre headshot Assurdo 110 110 Sempre 110 fa Mamma mia 100 Vabbè Vabbè Il pompa a noi si fa 30 A noi Persone Normali Lui fa sempre 110 O 220 Io quando faccio headshot Mi fa il pompa a 100 Quando faccio body Mi fa 100 Se mi va bene O pochissimo Ma l'astra è fortissimo Fa cecchinate bellissime Anche se a queste cecchinate Si possono anche fare questa Abbastanza facile Però Comunque sono sempre cecchinate Cioè, questo qua era difficile Sono sempre Delle cose molto difficili a fare In così poco tempo Fa confondere Tipo i poveri nemici Che lo incontrano Cioè Manco hanno il tempo Di guardare Non sono poi così scarsi Magari provano a fare del danno Niente O poi Anche di Hanno un sacco di punti In arena Ah, guardate qua ragazzi C'è un troll Tipo Di questi due Vabbè Ora ragazzi Veramente Thank you for watch Grazie veramente Thank you for watch Cioè Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie a tutti.